Cos'è detto? Fascista? Io sono un uomo di mare! Ognuno di voi, italiani o belgi, darà uno schiappo a queste vergogne di uomini! Che hanno messo a rischio le nostre vite! Non li uccidiamo, non li buttiamo a mare! Li prendiamo a schiaffi! Come ci state voi! Twinkies! 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 Flo dormir! Twinkies! Twinkies! Twinkies!